Al Pala Badminton di Milano è andata in scena la diciottesima edizione dello Ionex Italian International, la manifestazione che ha visto partecipare oltre 300 atleti provenienti da 46 nazioni di tutti e 5 i continenti. Quattro giorni di gara che hanno visto trionfare gli atleti di Danimarca e Russia in tutte e 5 le specialità in gara. Di marca danese le vittorie nelle due specialità più importanti. Nel singolare maschile trionfo per il danese Viktor Svensen che ha battuto il francese Thomas Ruxelles, mentre nel singolare femminile vittoria per la danese Júlie Jakobsen. Nel corso della manifestazione la federazione italiana badminton si è ritrovata per un brindisi natalizio e per la consegna di 5 speciali riconoscimenti agli atleti che si sono distinti in campo internazionale nel 2018.